È successo che l'unica commissione che è presieduta dalla minoranza per statuto, per regolamento, per tutela di tutti non ha potuto svolgere il proprio lavoro perché la maggioranza ha fatto venire meno il numero legale in quanto l'argomento che si trattava stamani era un argomento spinoso per la maggioranza. Si trattava di ricostruire l'iter procedurale di un affidamento, l'affidamento del campo dell'Oiolo e la conseguente ingiunzione di demolizione che lo stesso Comune ha fatto nei confronti della società. C'era da capire come mai di questo vulnus. La maggioranza sulla scorta di un parere dirigenziale che mi è pervenuto solamente ieri sera ha ritenuto di non volerci far lavorare. Questo è grave perché lei dei dritti anche democratici delle commissioni consiglieri comunali. Ho fatto presente al Presidente della Commissione appena arrivato che l'argomento non era di competenza della Commissione sesta ma eventualmente della terza o della quattro. Il regolamento è chiarissimo e dice cosa può fare la Commissione sesta. Ha compiti importanti che sono quelli di supervisionare il lavoro del Consiglio comunale su come poi procedono le delibere fatte, le mozioni approvate, ha compito di verificare l'operato delle aziende partecipate da parte del Comune. Quindi di compiti tantissimi. L'invito è da parte nostra e quello che è un fronte del Presidente a svolgere quello che il regolamento consente. Grave è la sua convocazione. Non certamente il fatto che noi abbiamo detto che la convocazione non era regolare. Grave è il suo modo di procedere che ha convocato la commissione non potendo convocarla. Non certamente il fatto che noi abbiamo detto che la commissione non poteva essere convocata. Noi abbiamo rispettato il regolamento e lui non l'ha rispettato.